Akan! Che significa? Adepti, in attesa che la loro divinità appaia. All'arrivo di una catastrofe, il dioku Kulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma il capo del culto prenderà il mio posto per ascendere alla divinità. Crede di poter ricreare il mondo e vivere in un paradiso di sua invenzione. Ricreare il mondo. Cosa? È che ho già sentito queste parole. Eccolo! Io lo conosco. È il Dottor Dominguez. Osservate! Ecco la chiave della nostra unità e salvezza. presto i nostri sogni di pace e di serenità si avvereranno. Lo chiamano già Kukulkan, ma il suo vero nome è Amaru. È nato qui, ma è stato cresciuto in segreto dai profani. Il popolo crede in lui. E tu, invece? Il mio defunto marito Saidi era suo fratello. Avevano opinioni diverse sul futuro di Paititi. Quindi, quando Saidi è morto, Amaru ha voluto abbracciare il culto. Avete visto la tempesta? Temete che il peggio non sia ancora arrivato. Farò in modo che Paititi continui a prosperare e crescere per sempre! Lo conosco bene. Se Amaru avesse successo, chiunque si opponesse non conoscerebbe mai questo paradiso. I ribelli verrebbero abbandonati. Non se non trovano lo scrigno. Sì. L'unica speranza è trovarlo per primi. Forse Amaru può ancora tornare sulla retta via. E ragionare. A morti i profani! Arriverà il castigo! Arkhan! Ora basta! Dobbiamo colpirlo adesso che il serpente è sotto tiro. Giustizia sarà fatta a tempo debito. Non mettere a rischio la ribellione per la tua impulsività. Ezzly. In avanscoperta. Ci vediamo alle pendici della montagna. Ultimo avvertimento. Segui, Ezzly. Il travestimento non ingannerà le guardie. Ok. Troverò lo scrigno. Non dovevate creare problemi. Ero solo uscita per fare due passi con mio figlio. Amaru sta perdendo la pazienza. Non accadrà più. Giona, puoi rispondere? Sì. Uccio e io ci siamo accampati. È tutto ok. Dominguez è qui. È lui il leader del culto di Kugulkan. È quello contro cui si battono i ribelli di Unuratu. Cosa? È qui da anni. La Trinità ha il controllo di Paiditi. Andrò all'occhio del serpente. Dobbiamo prendere lo scrigno prima del prossimo cataclisma. Ehi! 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 Dov'è mia madre? Sta parlando con le guardie e Akan. Com'è? Fuori ai Paiditi? Beh, è molto vario. Il mondo è grande. Più grande di Paiditi? Più grande di cento Paiditi. Davvero? Poi mi ci porti? Temo che tua madre avrebbe qualcosa da ridire. Quello che cerchi è lì dentro. E come saprò che è la stanza giusta? Dal tempo di morte. Se sopravvivi, puoi tornare passando attraverso il vecchio sistema di irrigazione. Ci vediamo lì. Occhio. Il culto tiene l'aria sotto controllo. Grazie.